Quattro giovani eroi oggi si affronteranno per provare ad avere la gloria. Saranno coloro che proveranno Fortnite nella realtà. La sfida sarà un due contro due e chi vincerà diventerà il campione della villa degli YouTubers. Lui è il capitano, si fa chiamare così ma per il resto è una schiappa. Poi abbiamo Octi, il papà della situazione che pensa di essere forte ma in realtà è un po' scemo. Lei è la donzella della situazione, il suo compito è quello di addolcire i nemici con le sue abilità da donna. E infine abbiamo lui, lo chiamano il matto. Fa delle cose che vanno oltre i limiti e che solo un pazzo come lui può fare. Fuori dalla villa è stato preparato un tavolo con tutte le armi che vi serviranno per vincere. Le regole sono semplici, un proiettile equivale a 50 di danno. Voi avrete 100 di vita e 100 di scudo per un totale di 200. Una volta che gli avversari vi toglieranno sia la vita che lo scudo, solo il vostro compagno, ponendovi una mano, potrà salvarvi. Avete un minuto per prendere tutte le armi a disposizione e scappare. Allo scadere del timer, inizia la guerra. Bene ragazzi, le regole le abbiamo capite. Un colpo vale 50 di vita, abbiamo 100... No, così no però. Abbiamo 100... Grazie. Abbiamo 100 di vita l'uno e 100 di scudo l'uno. Ogni colpo equivale a 50 di vita. E in sostanza, se un player viene colpito quattro volte, verrà eliminato. Ma scusa, però una cosa, lui è un pompa, il pompa ha pochi colpi ma fanno più danno, io direi che i suoi fanno 100 di danno. Io direi che sono super d'accordo. E direi che l'RPG fa 200 di danno perché sono armi più... capito più... Quindi in sostanza, avremo 200 di vita a testa. Ogni colpo equivale a 50 punti. Chiaro? Quattro colpi si viene eliminato. Solo un compagno può salvare l'altro. Dandogli la mano, aspettando tre secondi e ritirandolo su. Il campo sarà questo. Voi avrete quella parte del campo e noi questa. La guerra ha inizio. Chi vince sarà il vincitore. E fin qua... Che strano! E avrà la gloria della villa degli youtubers. Io direi che il timer può iniziare. Abbiamo un minuto per partire. Via! Andiamo, scappiamo! Vai, vai, vai! Ma qual è l'obiettivo? Uccidere Vasta? Uccidere. Aspetta un secondo, vorrei aggiungere una cosa al video. Quel tavolo è un tavolo. E guarda lui è furbo. Scappiamo via! Via, via! 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 Bene, ok, ci siamo. Oh mio Dio! Che fortuna! Che fortuna! Primo colpo un baule con delle armi. Bene, sarà la nostra scorta. È pieno di palline. Ricordiamoci, capitano, l'obbiettivo è pieno di palline. Che tipo è killarli? Oh, come si stanno facendo di là? Ma che cazzo! Andiamo, 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 andiamo dietro gli alberi. Via, via, via! Via! Calma, 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 calma! Piano! Dobbiamo trovare i medichit che ci sono nel campo, capitano! Come stanno avanzando? Sono furbi, eh! No, è troppo rischioso! No, è troppo rischioso! Sei a terra, sei a terra! Sono a terra! Sono a terra! Devo scappare, raga! Cavolo! Devo ricaricare! Mi ha atterrato! Mi ha atterrato! Sono a terra! No, calma! Oh no! Sto ricaricando! Come farò sperare! Devo stare calmo! Sono veramente in una situazione veramente sconvolgente! No, no, no! No! Eliminati! Ma guarda la tua copra in testa, Fran! Oh, te comunque le telecamere non le stai mettere! No! Ti ho detto, fermala! Raga! Il primo punto se la giudica la squadra arancetta! Io non voglio dire niente! Ma io che ho tre colpi! Eh, sei scarso! Eh, sei scarso! Andiamo col secondo round! Cerchiamo di vincerlo! Vabbè, con tre colpi ci proviamo! Andiamo, ritorniamo in base! Ok, ci siamo! Sta per iniziare il secondo round! Non tiro! Capitano, devi essere più bravo! Non pushare come... Ma ho tre colpi! Hai pushato troppo, te lo devo dire! Va bene! E poi riguardiamo la... Là c'è un RPG sul tavolo! Potrebbe essere geniale! Potrebbe essere geniale! Perché l'RPG... È ovvio che muori se ti prendi con l'RPG! Ok! Cioè, è ovvio! Ecco perché è sul tavolo! Siamo calmi! Avanziamo con cura! Ok! Avanziamo con cura! Piano! Avanziamo! Piano! Piano! Eccoli, sono nascosti là dietro! Ma cosa fai? Ma c'è il balletto! Ma scusami! Ok, vado dietro l'albero! Ci sono, capitano! Fuoco di copertura! Sì! Sì! Fuoco di copertura! Fuoco di copertura! Capitano! A me piace! L'aiuto io! A 150! Vai! Morta a terra! A terra! Fuoco! Ce n'è uno, capitano! Ce la possiamo fare! Io ci posso! Prese un corpo! Gli manca 100! Gli manca 100! A terra! Gli manca 100! A terra! E a terra! E uno morto uno! Lui ha 100 di vita! Io ci pure! Io 100! È morto! 50! Preso! Preso! 50 contro 50! Ma come? Hai fatto 100! Quindi hai fatto 50! 50 contro 50! Vieni! Uno, due, tre! Vai! Via! Fermi! Non è che vieni! Non è sempre! Ho messo il colpo, Crazy! Ah! Capitano! Oh! Direi le tue ultime preghiere, soldato! È stato bene! Direi le tue ultime preghiere! E va bene, Anzio Razzi! Anzio Razzi è morta! Vai! Abbiamo vinto! Hai killato tutti! Ho ucciso Gaia! Hai killato tutti! Capitano, grazie mille! Stiamo uno pari! Ultimo round! Chi vince questo? Si porta a casa tutto! Chi vince, vince! E chi perde, perde! Ricordiamo che chi vince sarà colui che avrà la gloria nella villa degli youtuber! Ricordiamo che chi vince! Sarà il vincitore! Vince! Vai, accendi! Accendi, accendi, accendi! Vai, vai, vai! Vai, 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 vai! Corri, corri, corri! Ok, salgo! Andiamo! Fammi scendere, fammi scendere, è troppo rischioso! Scendi, scendi! È troppo rischioso! È troppo rischioso! Aiuto! È in cento di vita! Tu cento e cinquanta! Ma ora cento! Capitano! Ma che cos'è? Si sono alleati! Cambio squadra all'ultimo round! Tregua! Tregua, alleiamoci! È una tregua! Ti sto proponendo una tregua! Ti sto proponendo una tregua! Stanno arrivando! Alleiamoci! Alleiamoci! Preso! Preso! Pam! Mi hai fatto quel cinquanta di vita? Ora tocca a me! No! Ok! È morto! 50 di vita! Addio! A terra! Addio! A terra! A terra! Sono morto! Sono morto! Ok! A terra! Sono morto! Ed è uno v uno! Da due contro due! Si è trasformato a uno! Contro uno! Aspetta un secondo però prima! Devo fare una cosa veloce no? Ma niente di che! Cioè guarda! No! Non puoi! Assolutamente! Non puoi! Fermo! Ehi! 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 No! E ora con le chiavi? Alza le mani! Alza le mani! Non puoi più far niente! Devi essere leale! E alzare le mani! A terra! A terra! Io non ti ascolto! Non ti ascolterò! A terra! A terra! Ormai hai perso! Non puoi farci più nulla! A terra! A terra! Manca solo un proiettile! Ho vinto! Questa partita l'ho vinta io! Dove vai? Vieni qua! Di le tue ultime preghere! E intanto! Mentre vengo e ti lascio! Le chiavi qua! No no no! Questa cosa no! Tu sei benedetto! Addio Cap! Una nuova ogni giorno! Ascoltami! Siccome io non sono un infame come te Cap! E tu mi hai tradito! Ma io non lo farò! Io non abbandono i compagni! Sai che significa Cap! Benvenuto tra di noi! Abbiamo vinto! E l'abbiamo fatto insieme! Nonostante! Mi hai fatto far danno dal nemico! Allora aspetta un attimo che deve investire più a film! A terra! Vabbè questo video termina qua! Lo so che è un po' trascino! Ma è stato bello! Ringraziamo! Ontas G per aver... Bella Ontas! Doppia inquadratura! Ringraziamo tutto qua! Abbiamo vinto raga! Oh! 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 Grazie a tutti.